Non c'è bisogno di cambiare casa. Per cambiare casa, rinnovala con Chateau Dax. Solo a settembre ti offre fino a 10.000 euro di sconto per cambiare il tuo arredamento, ma anche per arredare la tua nuova casa. In più, questa settimana, fino a 40% di sconto sulla collezione di divani relax. Chateau Dax, la casa secondo te. Grazie a tutti.